Ho visto cose che voi umani Non potete nemmeno immaginare È per questo che ho deciso di alzare la sticella del rischio Si parte Nickelodeon Slime Fest 2018 Siamo qui con uno dei protagonisti di questo festival Shade Ciao Shade, ti ringrazio Sei gentilissimo Poi detto da un presentatore così importante come te Così carino Cosa ti aspetti da questo Nickelodeon Slime Fest del 2018? Beh, sicuramente mi aspetto un sacco di performance diverse tra loro Io cercherò di fare del mio meglio come sicuramente anche tutti gli altri cantanti E poi mi aspetto tonnellate e tonnellate di slime Sì, sicuramente lo slime sarà uno dei protagonisti, Shade A proposito di slime Hai paura di essere slimmato? Devo dirti la verità, Shade Ho sfidato un sacco di rapper Ho fatto battaglie contro i più cattivi Ma lo slime mi terrorizza veramente tanto E sicuramente fai bene ad avere paura E anche gli altri cantanti che si esibiranno Sarò un presentatore gentile Ma non posso garantire sulle docce di slime Il titolo è Amore a Prima Insta Canta Shade Un'ultima domanda Visto che è uscito di recente il tuo brano Amore a Prima Insta Che sta riscuotendo un grandissimo successo Oh, grandissimo, sei troppo gentile Diciamo che sta avendo No, non essere modesto Sta facendo un grandissimo successo Che brani canterai allo Slime Fest? Beh, sicuramente Amore a Prima Insta Che è uscito da poco Sarà un battesimo del fuoco Una delle prime occasioni in cui lo farò dal vivo Poi canterò irraggiungibile Vista anche la presenza della mia amica Federica E infine chiuderemo col botto con Bene ma non benissimo Perfetto Shade Ti ringraziamo per la tua gentilezza E la tua disponibilità Nell'averci concesso questa intervista Ma adesso è ora di andare Perché lo Slime Fest sta per cominciare Shade, ci sei? Grazie